E cambiamo argomento, l'anteprima del documentario Astro Samantha dedicato al viaggio spaziale dell'astronauta Samantha Cristofaretti e quella del film Una famiglia a soquadro sono stati gli appuntamenti centrali nel fine settimana al Festival Popoli e Religioni di Terni. Il servizio. Weekend dedicato alla metafora del cielo per parlare del paradiso, tema di questa edizione del film Festival Popoli e Religioni, uno degli eventi di spicco l'anteprima di Astro Samantha e il documentario sul viaggio spaziale di Samantha Cristofaretti a cui è seguito un incontro con l'autore Gianluca Cerasola. Racconta i tre anni, i due anni di preparazione, la partenza nello spazio ed anche lo spazio, diciamo che è il primo film al mondo girato nello spazio e visto al cinema, quindi insomma è un documentario molto particolare che racconta diciamo questa particolare missione della prima donna italiana nello spazio. Altro appuntamento importante del Festival nella serata successiva, quello dedicato all'anteprima e backstage del film La mia famiglia a suo quadro di Max Nardari girato proprio a Terni e con Eleonora Giorgi tra gli interpreti. Sono molto contento di aver girato questo film a Terni, è un film che ho prodotto io con la Reset Production, una storia veramente per tutti perché parla di un bambino che fa dividere i genitori per poi dare valore alla famiglia, quindi è un film che non potevamo non presentare al vostro Festival come backstage perché noi questa sera presenteremo il backstage dove potremmo assaggiare qualcosa del film ma stiamo montandolo e siamo freschi perché abbiamo appena girato, abbiamo finito la ripresa il 3 ottobre e siamo felicissimi di essere qui da voi, Arnaldo mi ha invitato e siamo qui con parte del cast. È un film divertente e intelligente per tutti che fa riflettere su temi come il bullismo, la dipendenza da internet dei giovanissimi e le separazioni, quindi attraverso un'enonia, una battuta, un sorriso si riesce ad arrivare a tutti con la commedia, questo è il nostro obiettivo. per la commedia, ho avuto un'amera, un sorriso si riesce ad arrivare alla prossima e ho avuto un'amera, un sorriso si riesce ad arrivare a tutti con la commedia, quindi attraverso la vostra cosa questo si riesce a un amare e se non ha avuto un po' per tutti con loro